Antonio Ricchieri, comunicatore, giornalista, ma anche scrittore. Partiamo dall'ultima pubblicazione, una riedizione del grande manuale del bonsai, che non è semplicemente una passione o un hobby. È molto riduttivo definirlo un hobby. È una passione sicuramente, ma è un modo di vivere addirittura. Il bonsai riesce a cambiarti la vita. Non è assolutamente un'esagerazione. In Italia abbiamo molti appassionati, abbiamo pure molti istruttori. I maestri continuano ad essere in Giappone. Siamo i secondi soltanto ai giapponesi, seguiti poi dai bonsaiisti spagnoli. Comunque dico, il nostro bel posto ce lo siamo conquistati in maniera molto egregia. Questa grande passione inizia a metà degli anni 70 e tutti i formi nel miglior centro e adesso anche luogo espositivo in Italia. In Italia abbiamo, grazie alla famiglia Crespi, noi abbiamo il Crespi Museum, che è il museo più grande in Europa. Loro hanno addirittura fondato l'Università del Bonsai con docenti giapponesi. Adesso fanno delle manifestazioni che sono assolutamente a livello mondiale. Poi mi sono dedicato alla didattica con una pubblicazione di parecchi libri. È un punto d'orgoglio perché poi incontro persone che adesso sono istruttori e mi dicono ho cominciato con i tuoi libri. Hai iniziato per passione ma sei diventato un punto di riferimento in Italia e collabori anche con testate internazionali. Mi sono allargato a macchia d'olio, adesso collaboro con redazioni europee. Credo di aver dato parecchio per la diffusione del bonsai, questo lo dico con molto piacere. Ecco, dalla didattica siamo arrivati però nei decenni di studio e di lavoro anche all'estetica. In che senso? Assolutamente sì perché il bonsai è soprattutto estetica quindi le mie ultime due o tre pubblicazioni sono state mirate assolutamente sull'estetica che parte come estetica orientale e si è adesso un po' adattata a quelli che sono i nostri concetti occidentali. Ma sono due concetti assolutamente diversi di estetica. Per i giapponesi l'estetica significa anche asimmetria mentre le nostre opere d'arte e il nostro concetto di estetica è assolutamente simmetrico. Imparare le tecniche non solo e poi applicarle è come ci dicevi prima entrare dentro un'altra cultura, integrarla con la propria. Si può essere un buon bonsaista però il bonsai è tante altre cose. Un esemplare di bonsai fatto da un maestro è qualcosa che poi naturalmente ti comunica molto molto di più. Quindi la pianta può essere una buona, un'ottima pianta dal punto di vista strutturale come tecniche ma può restare solo quella e sarà sempre qualcosa di freddo. Il bonsai ti deve trasmettere anche il pathos. La pianta ti deve trasmettere drammaticità, ti deve parlare. Hai parlato di comunicazione, di arte, di quadri. Possiamo dire che il tassello in più che ha il bonsai è proprio l'essere vivo? Assolutamente sì. Difatti è un'arte viva però all'inizio c'era questa dicotomia o questo dubbio. Il bonsai è arte e natura oppure solamente natura? Assolutamente è arte e natura. Dietro ci sono migliaia di anni di cultura orientale. Non ci dimentichiamo che il bonsai nasce in Cina e viene chiamato Penjing, poi diventa bonsai. Stiamo parlando di un'arte che resiste ormai da ben 2000 anni. Tu hai un desiderio di poter realizzare a Palermo qui nella tua città una grande mostra che possa portare e quindi poter condividere con i palermitani e con tutti quelli che lo vorranno esemplari unici? In altre regioni d'Italia si fa tranquillamente perché fuori l'attività del bonsai veramente ferve. Purtroppo come tante cose non si riesce a portare facilmente in Sicilia dove ci sono degli ottimi bonsaiisti. È un po' il mio desiderio nell'interesse di questa magnifica città. Vorrei tanto riuscire a fare una mostra di un certo livello. Qua stiamo parlando di alta cultura. Il bonsai mi ha cambiato totalmente la vita, mi ha fatto superare difficoltà che potrebbero avere tutti. È uno stile di vita.